partiti in vantaggio si porta Orange Intense presto superata da Damian Sprint che si trascina all'esterno Magia Nera quindi Orange Intense ancora Maremma Santa con in coda Bloody Man cavalli lungo la curva con Damian Sprint e Magia Nera apparigliati al comando davanti a Orange Intense e Maremma Santa quindi Bloody Man siamo in retta di arrivo con Damian Sprint all'interno Magia Nera al suo attacco dietro i due Orange Intense per linea interna Maremma Santa che ora si propone all'esterno seguita da Bloody Man sta allungando Damian Sprint nei confronti di Maremma Santa e Bloody Man siamo a 250 dal palo Damian Sprint ancora in vantaggio nei confronti di Bloody Man quindi Maremma Santa nel tratto conclusivo Damian Sprint all'interno sta reagendo bene e sul palo è Damian Sprint che si impone nei confronti di Bloody Man Maremma Santa quindi Magia Nera e Orange Intense andiamo a rivedere le immagini di Mirko Mimocchi in sella Damian Sprint vincitore di quest'ultima corsa della stagione estiva di Galoppo numero tre dello schieramento al posto d'onore termina il numero uno di Bloody Man al terzo il cinque di Maremma Santa quindi tre uno cinque il probabile ufficioso arrivo della sesta corsa che chiude la stagione estiva di Galoppo all'Ippodromo di Amniano a tutti buonanotte